Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gesù, 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 Gesù. Gesù, 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 Gesù Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti.